A Mr. Anselmi, buongiorno. Un pareggio che è sfuggito proprio negli ultimi minuti, quindi si ferma questa striscia di risultati utili per la sua squadra. Come approccirete anche la prossima partita, che è un impegno abbastanza difficile contro il Nettuno, sempre squadra della zona? Approcciremo la partita come all'andata in casa del Nettuno. Abbiamo perso 1-0 e al novantesimo ci siamo mangiati un calcio di rigore. Con la stessa determinazione perché dovremmo uscire fuori dalla zona bassa, dalla zona cardata classifica. Per quanto riguarda oggi, la differenza in campo si è vista, dei valori si è vista, un grosso possesso palla della squadra del Lido dei Pini. Cercavamo da sfruttare le ripartenze e non ci siamo riusciti. Con tutto ciò, con una buona determinazione nel secondo tempo, eravamo riusciti a guantare il pareggio. E poi un errore difensivo, scalare le marcature che non si sono scalate e ci hanno fatto gol, un bel gol, una bella azione. Complimenti al Gera. Una determinazione che però vi ha permesso di rimanere aggrappati alla partita fino alla fine e non demeritando soprattutto. C'è stato un rigore, un episodio contestato alla fine, questo fallo di mano. Dalla visuale sua secondo lei ci poteva essere oppure che dalle tribune non sembrava sinceramente? Si poteva dare come non si poteva dare, la distanza era avvicinata, certo, istintivamente si grida rigore, poi l'arbitro magari ha visto meglio che stava più vicino di noi. Da là abbiamo visto che ha presa con la mano, poi la distanza comunque era avvicinata, ci poteva stare come non ci poteva stare. A Gianluca, a Franco, centrocampista del Lido dei Pini, oggi gran gol, hai aperto tu le marcature della giornata, però avete rischiato un'altra volta di farvela sfuggire dalle mani. Può essere questo un po' il filo conduttore di una stagione che poteva dare qualcosina di più? Purtroppo partiamo sempre con un rigore o qualche episodio a svantaggio, sono tre partite che ci danno i rigori contro. Però oggi dopo tre partite che non vincevamo siamo riusciti a portare a casa il risultato, grossa prestazione la squadra. Hai detto bene, la prima vittoria del nuovo anno credo, l'ultima vittoria era 22 dicembre, quindi un mese avete ripreso a vincere e ora vi fermerete? No, speriamo di no, speriamo di continuare, ci metteremo tutta e cerchiamo di tenere distaccate quelle dietro e di raggiungere quelle davanti. Una domanda sull'episodio dubbio, il rigore e poi successivamente gli ospiti hanno protestato per un'altra situazione, un altro rigore dalla situazione che era molto simile al precedente. Tu, dalla tua visuale, cosa hai visto? Guarda, io non ho visto bene due rigori, però mi pare che sul primo rigore che ci hanno dato c'era un po' di fuorigioco, un po' un metro di fuorigioco dell'attaccante loro e l'hanno fischiato. E poi ci hanno fischiato il rigore, però non ci ho fatto caso. Oggi abbiamo visto, parliamo sempre del grande attacco dell'Io dei Pini, però abbiamo visto anche una grande difesa oggi in tutti i quattro che hanno contribuito a far prendere soltanto il rigore alla squadra. Un commento sui tuoi compagni, dal primo all'ultimo? Sì, stiamo a lavorare molto sulla fase difensiva, il misto vuole che prendiamo meno che è possibile, perché è stato un per punto debole dalla squadra in questa andata di campionato. Cercheremo di lavorare bene là, complimenti a tutti, abbiamo fatto una grande prestazione.